Gli avversari lo definiscono uno squalo, gli amici gli gettono i bagnanti nella vasca. Chi è realmente Carcarlo Pravettoni? Andiamo a scoprirlo nel suo studio privato. Carcarlo Pravettoni, alla scoperta di uno degli uomini più influenti d'Italia. Uomo cardine per grandi aziende e istituti finanziari partiti politici. Come è arrivato al top un essere che al massimo aveva posato come modello per l'omino che c'è sulla porta dei bagni? Queste le tappe della sua ascesa. Anni 80 Carcarlo Pravettoni lancia sul mercato il Würstel di pollo senza pollo e la lira si impenna. Anni 90 inventa la promozione globale. A chi compra una cosa ne regala un'altra a casaccio. In questi mesi la svolta conosce il conte Multedo Auzio Scavazzalonga che lo prega di trovargli un nome più corto. Pravettoni gli suggerisce Bobby ed entra nelle sue grazie. Sposa la figlia Anna Peppa Scavazzalonga ed eredita la poltrona di amministratore delegato della Carter & Carter, un gigante del settore. Quale settore? È un segreto ben custodito. Per alcuni è un genio scomodo. Per l'economista Jack Price non ha superato il grado evolutivo dei crostacei. Carcarlo Pravettoni, imprenditore che da sempre coniuga profitto e difesa dell'ambiente. Alcuni esempi. Durante la recessione, invece di licenziare 2000 lavoratori, sceglie di piantare un albero su ogni dipendente in eccesso. Carcarlo Pravettoni, disegnatore.